La crisi in Turinja scuote il governo tedesco e soprattutto la sede U di Angela Merkel. Dopo lo scioglimento dell'accordo che ha portato all'elezione del governatore dell'Ende Orientale con i voti dell'estrema destra di Alternative for Deutschland, i cristiano-democratici aprono al dialogo con la sinistra radicale della D-Link, la SPD e i Verdi. Ho proposto un governo tecnico composto da tre ministri. La sede U chiederà alla propria ex presidente della Turinja un impegno di 70 giorni per poter lavorare con un ministro della giustizia, un ministro delle finanze, un capo della cancelleria di Stato e dare vita a un governo tecnico. Dobbiamo garantire la certezza del diritto, organizzare le elezioni e infine dare la parola agli elettori. Il terremoto presenta un conto salato alla sede U. Dopo le dimissioni della Merkeliana, Negret Kramp-Karrenbauer raccoglie consensi la corrente che chiede comprensione per le proteste dei militanti di Alternative for Deutschland.